Sicuramente è una grande giornata, faccio le mie considerazioni e ringraziamenti che ha fatto chi ha parlato prima di me. Mi soffermo solo su un passaggio che condivido pienamente con Carlo, con il signore di Aldo, con cui condivido 5 anni i banchi dell'opposizione. La questione della strada è importantissima, quella dell'autostrada lo è ancora di più perché è tutto collegato. Io ho sentito in diversi interventi anche il Presidente Cirio sostenere che la strada che è stata individuata per portare a termine quest'opera è quella giusta. Sono contento che sia stata anche la nostra parte politica a individuarla. Sosterremo proprio la fine dei lavori perché oggi qua siamo a un punto fermo. Ne abbiamo un altro che aspetta da anche più anni e io sono fiducioso anche grazie alle capacità che al Presidente io riconosco pur essendo su due fronti diversi politici, però gli va riconosciuta questa grande pragmaticità e quello che è giusto. è questa volontà di appartenenza per il territorio e di fare il territorio che noi sosterremo. Grazie.